Buonasera a tutti ragazzi, qui è Mr. Lob, come sempre dal Minerva Studio e stasera vi parlo di Itat3D Un titolone, il titolone che al confronto la Repubblica è un giornalino di paperino Comunque, se sei nuovo sul canale, innanzitutto benvenuto Questo è il Minerva Studio, sono Mr. Lob, ti invito a mettere mi piace sul video e anche di iscriverti al canale E di azionare la campanellina, mi raccomando, in maniera tale da restare aggiornato su tutte le nostre novità Settimanalmente escono video che trattano i temi di mix, master, produzione nel genere trap, rap e r&b E stasera in particolare parliamo di spazializzazione degli Itat3D Perché questo è un tema molto molto interessante Che ovviamente non tratta nessuno, forse neanche non sanno di cosa si sta parlando Comunque, se invece sei un veterano del Minerva Studio, sei benissimo che adesso c'è la sigla Va con la sigla Ok ragazzi, spazializzazione degli Itat3D Perché è importante fare questo appunto Allora, perché Ho fatto anche un video su questo L'errore principale che si fa all'inizio è quello di Non spazializzare il mix Mix piatto Però mi sono reso conto che da quel video magari si capisce che l'unico elemento che deve essere spazializzato è la voce Beh, non è assolutamente così La voce è uno degli elementi che ovviamente deve essere spazializzato Ma la spazializzazione del mix in generale ovviamente è la somma di tante cose Non è solamente un elemento che deve essere spazializzato Ma tanti elementi collocati nel giusto ambiente spazio-temporale Madonna Perché proprio così che si... Spazio-temporale Ora vedremo anche perché il temporale dove esce fuori Aiutano a dare tridimensionalità al mix e quindi percepire il mix in 3D Specialmente in cuffia E non percepiamo solamente il mix piatto qua in mono Bene Detto questo andiamo a vedere un secondino Questa sperando che... Vediamo... Ok Andiamo a vedere un secondino Vado a trovare qual'era Questa è una... Esattamente Ok Allora Questo pezzo qua Ha varie linee di itat Classico nella trap Abbiamo gli itat in ottavi Gli itat a cento I itat sedicesimi I itat I itat Vengono chiamati itat E gli open hat Ok Quindi la prima cosa che bisogna fare Qual'è? Scegliere qual'è l'itat lead Cioè l'itat che tiene il tempo E quello dovrebbe restare al centro Perché Quello sta al centro E poi tutto il resto Gli gira intorno Questa è l'idea Oh Itat lead è questo qui Itat in ottavi Ok Questo qua Poi Itat sedicesimi Vediamo un pochino Come lo abbiamo Pannato 53 A sinistra Itat 45 A destra Vedete anche qua Come vi dicevo L'altra volta Uno Dei punti Per creare Tridimensionalità All'interno Del 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 mix È Il fronte stereo Che tra l'altro È anche un punto Che viene dimenticato Perché Generalmente Uno si pensa Beh Vedete Tridimensionalità Allora Gli riverberi E il delay Sì Ma non solo Quindi Andiamo a distribuire I nostri Itat All'interno Del fronte stereo Io Io non ti consiglio mai Di fare Esattamente Gli stessi numeri Cioè Questo è a 53 Allora Questo lo metto A 53 A destra No Rimani sempre Con un leggero Con una leggera differenza Perché questa leggera differenza È quella che Ehm Inganna Il nostro Orecchio È la percezione Psicoacustica Che si ha È quella Di Una Una leggera differenza Ok Questa leggera differenza Va a creare Spazio e spazialità Poi Abba Il tat finale Open hat Vedi Totalmente Left A Destra A sinistra Per cui L'immagine Potremmo dire La stereofonica Dei nostri tat È questa Ok Quindi Mettiti le cuffie Ovviamente Se non riesci A sentirla bene Se dal telefono Se vedi questo video Dal telefono Mannaggia a voi Ovviamente Questa differenza Non la senti Perché il telefono È mono Mettiti un paio di cuffie Almeno Ok Bene Però La cosa interessante Che voglio farti vedere È esattamente questa Nell'ittat Accento Che È un po' Quell'ittat Che dà Il tempo La cadenza Tu Ok Cosa ho fatto? Ho messo Uno stereo delay Stereo delay Vuol dire che A sinistra Nel canale di sinistra Ha un tempo Di delay A destra A un differente Tempo delay Cioè tu puoi Cambiare Il tempo di delay Tra destra e sinistra In maniera Differente E cosa ho fatto? Ho messo a sinistra Ho messo a sinistra Un sedicesimo A destra Un ottavo Ovviamente in sync E la cosa interessante Di delay Ma soprattutto Il feedback E il mix Dry Wet Cosa vuol dire? Come si traduce questo In termini Di percezione uditiva? Si traduce che Da un lato Tu percepisci più Ripetizioni E dall'altro Ne percepisci di meno Mentre Dall'altro lato Tu percepisci Più alto Il volume Del Del ritorno Del delay E dall'altra parte Più basso E Come dovresti ragionare? Devi ragionare in croce Cioè se Sul sedicesimo Aumenti il feedback A destra Quindi sul canale sinistro Aumenti il feedback Sul canale destro Aumenti il mix Rispetto al canale sinistro Infatti Qua abbiamo 14,5% Qua 8,5% 6% 8,5% E a croce Ok? Pam Pam Bene Ascoltiamo L'effetto che fa Ok Ta 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 Ok Quindi In tutto In tutto Senti 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 ta 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 Che però Nel contesto generale Tu Non lo senti Questo effetto Ma lo percepisci Mamma mia Questa Questa è proprio Il segreto Della spazialità Cioè Il segreto Della spazialità Tu non lo senti Ma lo percepisci Percepisci che c'è uno spazio Ma non lo senti Percepisci Ma non lo senti Percepisci Ma non lo senti Chiaro Qual è il punto Del discorso Poi 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 Ho mandato pure In una room Un room Itat Apposta Una room Che utilizzo Per l'Itat Questa la spiego I miei studenti Privati Chiaro Non te la faccio Vedere Però Insomma Questa room Mi serve Per creare Appunto Ancora più Spazialità Con i riverberi Come puoi vedere Quando si parla Di spazialità Del mix Non è un singolo Elemento Che interviene Ma Sono più elementi Che intervengono In questo caso È intervenuto Il fronte stereo Il delay Ecco perché Ti dicevo Che L'arte Di spazializzare Il mix È un'arte Spazio-temporale Perché abbiamo L'arte spaziale Destra-sinistra È temporale Anche il delay Sedicesimi Ottavi Quarti E poi Si può fare Anche con i millisecondi In questo caso Però L'ho fatto con Con il sync E come vedi Quindi sono più Aspetti Che intervengono Di un'unica cosa E anche I riverberi I riverberi Per cui L'effetto generale Che si ha Degli tat E questo Ok Quindi senti Sti delay Che ti girano intorno Mentre tu Ascolti Questi tat E il fatto Che questi tat Ti girano intorno Ovviamente Ti crea Tridimensionalità Ok Bene Quindi Ricapitolando Cosa ti devi portare A casa Da questo video Ti devi portare Semplicemente Che la tridimensionalità Non è dovuta Solamente alla voce Ma ogni singolo elemento Crea tridimensionalità All'interno del mix Ci sono vari metodi Per farlo In particolar modo Gli tat Che sono Gli strumenti Della i-end Della parte alta Del drum kit In generale Sono quelli Che ci danno La percezione Spaziale Perché ricordati sempre Che le frequenze alte Servono A percepire La sorgente La collocazione Della sorgente Nello spazio Mentre La parte bassa Serve a percepire La loudness Cioè La potenza Del suono E come fare Questo è uno dei metodi Delay Destra-sinistra Delay Ok Quindi Destra in un modo Sinistra in un altro Feedback in un modo Mix E wet In un altro Per cercare di creare Questa differenza Puoi anche Equalizzarli In maniera diversa Ti va a creare Ancora più differenza L'idea che devi portare È che per creare Spazialità Deve creare differenza Tra destra e sinistra Ok In generale questo Bene Spero che questo video Ti sia stato utile Fammelo sapere Qui nei commenti Se ti è stato utile Fammi sapere anche Che cosa vorresti Che noi trattassimo Qui al Minerva Studio In maniera tale Da poter valutare Se la tua richiesta È un Contenuto Interessante Da portare Qui sul canale Se sei nuovo Grazie per aver visto Questo video Ti invito di nuovo Ad iscriverti Al canale Di azionare La campanellina In maniera tale Da restare aggiornato Su tutte le nostre Novità Quello che facciamo Noi al Minerva Studio È aiutare Gli artisti Che hanno Un'idea Musicale Di un loro progetto Musicale Ma che però Ancora non hanno Ben chiaro Come Finalizzarla Ecco Come metterla Proprio in pratica Noi ti portiamo Dalla fase Di arrangiamento Preproduzione Fino alla fase Di distribuzione Ti accompagniamo In questo viaggio Nella 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 realizzazione Ecco Di questo Tuo sogno Invece Se sei un artista Che semplicemente È già tutto quanto pronto Però Ti serve un ingegnere Del suono Che Mixi Tutto il tuo lavoro E finalizzi Il tuo lavoro Beh Io sono l'obbito E sono A tua disposizione In descrizione Trovi il link Per candidarti Ovviamente Per cercare di capire Se Possiamo lavorare insieme Se invece Sei un aspirante Ingegnere del suono Vuoi imparare a mixare Vuoi capire Effettivamente Cosa c'è dietro Il mondo Del mix Del master Del genere Trap Rap R&B In generale Del genere Black Urban In descrizione Sempre trovi Un link Per Candidarti Ad una Consulenza Completamente Gratuita Con me Noi abbiamo Dei percorsi Privati Cuciti Su misura Che ti porteranno Da zero A mixer E questo è quello Che facciamo Noi Al Minerva Studio Ho detto tutto Ci vediamo Alla prossima Ciao Chiuso nel Minerva Studio Cucino sto mix Cucino sto beat C'è lo beat Fra dei muto Ti caccia la hit Ti caccia la hit